Perchè io figlio soldato nell'aviazione, l'aviazione ero uno specialista, motorista, dunque io non volai mai, ma volai qualche volta per dire a prendere le sigarette, non per uso proprio, ma per... Ma dov'è che l'ha fatta la guerra? La guerra in Italia, tutta è italiana, perchè io all'estero non ci sono stato, sono stato a Tolone, ma non è cosa... manco ripuntarla, perchè non mi piace. Dopo la guerra sono emigrato. Per dove? Per il Cile, lei mi può dire, oh Cile, come io allora, quando Filippo Pennavaria, Filippo Pennavaria, che io fu a Cioallo, a Roma, che allora lui era deputato, veniva in deriva per avere una raccomandazione per uscire fuori dall'Italia, non in Argentina, o Brasile, ma qualche posto, uno non c'erano italiani. Perché? Perché? Perché aveva un... come si può dire, una raccomandazione per gli italiani, perchè facciamo schifo. Perché durante la guerra, uno che aveva, uno che era caporale, a me mi trattava talmente male, che uno aveva repulsione contro questo disgraziato. e si immagina contro un ufficiale, eccetera eccetera. Dunque, la regia c'è sempre stato, c'è caporale, addirittura è soldato semplice, c'è stato sempre. Dunque, però, i tedeschi, invece, avevano una disciplina completamente o all'opposto della nostra. Gli americani erano bonaccione, anche mezze gretine, a mio giudizio, no? I tedeschi invece erano severissimi, come diavoli. Però ricevono sempre, il soldato italiano vale morto. Gli ufficiali sono una cacca.